Hi guys, fa la calerola chicos, ciao ragazzi, bentornati sul canale ZioFX e su un video di Rainbow Six Siege Raga, vi volevo dire che praticamente questa è una partita, io vi aggiungo questa intro Questa è una partita che ho fatto, una del tante che ho fatto in pre-classificata, diciamo per classificarmi con alcuni miei amici praticamente italiani E non voglio spoilerarvi quale livello ora sono classificato Comunque raga, questa è stata una partita buona, niente di che, niente di speciale dal punto di vista personale del team Comunque non vi voglio spoilerare nulla e ve lo apporto soprattutto perché c'è la nuova mappa Costa Che io assolutamente non conoscevo, non conosco ancora ora si può dire, quindi immaginate Spero che il video vi piaccia, vi porterò, vi prometto altri video di Rainbow Six, almeno uno prima della fine di questa settimana Andiamo così, Giafix Bene raga, bene, mi fa piacere, quindi mi arriva uno qua ora Benvenuti, aspetto Bella madonna No, no, calma Calma Ma scusami Io non stavo proprio per vedere che non avevo la visuale Perché lui aveva già rotto la finestra, quindi io mi stavo aspettando che tu avessi visuale Dietro dove? Ma io non c'avevo visuale Dietro non mi può arrivare Sotto Sotto E vabbè, ma si cazzo, mi può arrivare Eh vabbè Da dove? Da dove? No, è uscito, è uscito dalla porta normale Infatti dovevo stare lì a mirare lì raga Dietro non poteva arrivarmi Insomma, manco dove è barricata? Barricata qua, non pensate voi Dove che posso barricata? Qua Barricata queste due Ok Oh cazzo No Ma sembra che la gente Ok 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 Oh no, ce ne sa un altro Ce ne sa un altro lì Dove ho messo il Ok non ci hanno capitato Quindi è bene così La fotografia praticamente Ah non lo so Con tutti e due dalle finestre Messe Io mi sto guardando Però verso destra Che ha buttato una Stordento qualcosa No touch Sai cosa devi fare Messe Ascoltami Devi andare al Vai al ground Ok fatto uno Fatto uno Manca l'ultimo raga Oh eccolo Fatto 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 Bravissimo bravissimo Stato pure fortunato qui Però me l'aspettavo che arrivasse Vedi A casa Cianno Caveira Jäger Valkyrie Pulse I più infami Vabbè Chi che può avere la Il C4 Di questi Pulse Valkyrie Valkyrie Messe Ci sono io qua Se vuoi Possiamo entrare pure qua Se vuoi Che dici No fai una cosa Ok 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 Arrappicati qui Sto bene Sto bene Buono buono Ecco Esatto No Vai dimmi Sotto al tavolo Madonna che cane Il tavolo del biardo Dimmi se Eccolo 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 Jäger Vabbè Siamo provando L'obiettivo Praticamente Quasi Però Però Eh perciò Mi sto mettendo Nell'angoletto Perché non vorrei Oh dietro raga No ma no da dietro No dalla finestra Dietro Porca Non la conosco Raga la map Caveira Mi sono indietreggiato Per mettermi Nell'angolo E c'è uno spazietto Da una finestra Fatta strana Raga Che vedevo di Sì io non l'ho vista Altrimenti l'avrei ammazzata io Ero alle sue spalle Vabbè comunque siamo Tre contro tre Raga Quindi tranquilli Attenzione lì Eh Buona buona Come? Ma ti ho deciso Lui Ma Sì dove è? Chi è che mi sta chiamando Raga e non riesco a riconoscere Le voce Ok Ok ci sto Ci sto Ci sto Sì buchi Le copro Sì sì Li ho fatti per invitare Sapete che c'era Il resto proprio qua Come un cane Nell'obiettivo Perché non so proprio Dove andare Quindi Ok Teo Lo stanno Sulla nostra destra E dietro Sì Ma anche Perché Siamo Siamo A posto Bella Bella raga Grandi ragazzi Era rampinato Sono io ste Dov'è? Perché sta sparando Povero Che è? Montagna? Non era montagna Chi è? No blitz Dov'è che sta? Lì? Dov'è? No Ma dov'è questo Che ha fatto tutti Scusate È dentro l'ascensore Oh non muore Raga Non muo Mamma mia Non muore C'è Gesù Questo qui si chiama Gesù C'è cavera 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 Esatto Cavera Aspetta che la devo spottare Perché non riesco a capire Dove cazzo sia Ve la spotto eh Cavera Qua qua Bravissime Si impara a far spawn kill Telecamere l'avete fatta eh C'è cavera da voi Alfa Teo C'è Scusa c'è Ok ok sta qui sta qui Aspetta scusa L'ho fatto così Ok lì sta uno Ehm Ah questi hanno bucato una parete Minchia l'ho acceso Tu grande Qua c'è qualche Uno che spara è un wallbang Ok raga Oh l'altro dietro Raga dietro è uscito fuori Mi smoke è uscito fuori Sta davanti a te Teo se non mi sbaglio Sì raga No Ah ma ci ho acceso entrambi Eh raga Cazzo Guarda la scena Mister Oh no no Teo ti posso dare un consiglio Sfonda la finestra E non c'è nessuno Ti sto controllando io Occhio al buco e basta Dove cazzo mi sto sparando Ok l'avete fatta Grandi raga Vai messi vai Si è abbassata Sta finestra qua non mi piace Vabbè Qua è probabile che arrivano Comunque Qui ne manca una raga Una barricata qui importante Li spotto eh Per fare un'idea Da dove arrivano Vai Ma se qua chiudo raga Non ha capito Siamo all'ultimo piano Se scappa Togli da qua C'è blackbeard raga L'entrata dove sono morto con montagna prima Dov'è che pulsi Ti do Ti do un po' di cosa Mamma mia ragazzi Messo è troppo forte Sto ragazzi Perché ho scaricato Tutte le arti Ah doc doc C'è doc Dove stai Dove che stai Eh se giuro Prova venire su Bravo te Ottimi raga ottimi Dove cazzo sta questo raga No l'ho trovato Dove sta dove sta dove sta Dici dici Ma chi è Ma Dio santo Ma Dio santo Porco No Da ritardato No ma non l'ho fatta apposta Se non ci mancherebbe Dove che arriva questo Dio santo Mettiti dietro lo scudo Perché ho vinto Convinto che fosse C'è convinto che fosse Il nemico Eh dai raga Concentrati Guardi alle telecamere Non c'è più un cazzo Zitto santo Restano quindici secondi Dieci secondi e via Ancora cinque secondi Scusami Messi Ciao miseria Mannaccia È stato bruttissimo Esatto Dai Vabbè Giocati tutti bene Cazzo Vale Almeno all'ultimo 8355 4 Buono Cioè io con 4 3 Ti ho arrivato Ultimo Ma che cazzo Ma ho fanculo Ah Conteggi De merda Oro 2 Vabbè Sono stanno Verso Dura Con una cattiveta Ti ho sparato Quasi Vero Mi canso Ho fermato Poi Continuato No 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 Esatto La provi giustiziata Solo quando mi sono reso conto Tipo Meno 110 Ho detto Porco Zio che ho fatto